La tecnica per suonare l'arpa è il pizzicato. Questo si ripercuote sui tuoi polpastrelli. È importante sapere cosa fare per evitare dita inutilizzabili il giorno prima del concerto o del concorso. Ricordati di non concentrare tutte le ore di studio il giorno prima del concerto. Sui nostri polpastrelli è molto facile trovare calli, vesciche e bolle. La vescica la riconosciamo perché è superficiale e piena d'acqua. Il trattamento di una vescica può fare senso ad alcuni, ma non è doloroso. Il trattamento consiste nel prendere un ago e perforare da parte a parte la vescica. All'ago va legato un filo, il quale passando nella vescica ne assorbirà il liquido. Che schifo! Nel caso di una bolla, non fare nulla. Essa infatti si riassorbirà da sola. Per non sentire troppo dolore mentre suoni, utilizza un cerottino di carta. In caso di bolla di sangue, in caso di studio matto e disperatissimo, certe volte accade, non fare assolutamente nulla. Evita di suonare troppo con quel dito, ma sempre e comunque con un cerottino di carta. Se i calli che hai sono troppo grandi o rendono il suono brutto, puoi limarli con una lima per unghie o una pietra pomice, facendo molta attenzione.